Il pullman dei parchi torna anche in inverno a collegare Roma con le più belle aree verdi d'Abruzzo, un servizio che riparte con due tratte in più rispetto all'estate, con collegamenti giornalieri dall'8 dicembre sino al 6 gennaio. I viaggiatori, su prenotazione, potranno così raggiungere i borghi più caratteristici dell'Abruzzo interno. Un'iniziativa promossa dalla regione e gestita da Sangritana S.P.A., Marchio Abruzzo Bus, che intende avvicinare la capitale a tre parchi regionali, il parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, il parco Sirente e Velino e il parco della Maliella. Saranno attivate due corse giornaliere, escluse giorni 25 dicembre e 1 gennaio, con partenza la mattina dal terminal di Roma-Tiburtina e ritorno in serata dai comuni di Castel di Sangro e Scanno. Sono tre le direttrici messe a disposizione, Roma-Pescassaroli-Castel di Sangro, Roma-Sulmona-Roccaraso-Castel di Sangro e Roma-Sulmona-Scanno. Il costo della singola corsa sarà di 15 euro, con una tariffa ribassata in caso di prenotazione andata in ritorno per una spesa di 28 euro. Il consigliere regionale con delega ai trasporti, Maurizio Di Nicola, ha parlato di un esperimento riuscito. Abbiamo messo in campo azioni concrete ed efficaci, ha detto Di Pangrazio, invece, presidente del Consiglio regionale. Quest'ultima iniziativa si aggiunge alle scontistiche sul trasporto per agevolare gli studenti pendolari e alle previsioni contenute nel Decreto Barca per la coesione delle aree interne, nelle quali sono state definite e sostenute le aree di crisi industriale non complesse, secondo quanto definito dalla normativa nazionale.